Il Castiglione ci crede fino in fondo e batte nei minuti di recupero la Bedizzolese, ottenendo la quarta vittoria di fila. Nel primo tempo le emozioni sono poche e l'unica azione veramente degna di nota è poco prima del riposo, quando Filippo Lauricella, ben imbeccato da Valotti, non trova la porta con una palombella a scavalcare Piccinardi. La ripresa è più movimentata e al cinquantesimo la Bedizzolese è pericolosa con una conclusione di Taglietti dopo un flipper in area. Al cinquantasettesimo punizione interessante scodellata in area da Niccolò Lauricella, Mangini prova a deviare ma non riesce a dar potenza. Cinque minuti dopo Pasotti crossa per Valotti, il colpo di testa si spegne tra le braccia del portiere. Al sessantatresimo Castiglione è vicino al vantaggio, dai e vai tra Pasotti e Filippo Lauricella, sul tiro di quest'ultimo respinge Piccinardi, irrompe Niccolò Lauricella che prima centra il palo e poi sulla ribattuta viene murato da un difensore. Al sessantasettesimo ci prova Campagnari, palla alle stelle. A questo punto la Bedizzolese si avvicina alla porta rosso-blu in un paio di circostanze ma senza fortuna e quando la gara sembra destinata a terminare a reti bianche, una palla recuperata da Falanca innesca Valotti che al novantunesimo fulmina Piccinardi dopo un veloce contropiede. 1-0 e tre punti in tasca per i ragazzi di Esposito che ringraziano i loro bomber e salgono a quota 15 ad un solo punto dalla vetta occupata da Castellana e Scanzorosciate.